Non passa ai seccatori, alla macinazione e alla proverifazione, è un peccato, vero perché il caffè a Cuba soprattutto è in montagna, per questo è un pezzo, in montagna. Uno della rovina che sta in restaurato, il Trentino, che bella la rovina, guarda. Allora, che palma è questa? Palma reale. E così la palma reale. Bene, signori, questa... Grazie. 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 Buongiorno. 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 Buongiorno.